vi faccio vedere anche a voi, questa cosa qui questi sono tipo, non so, Hacker, penso season of the world, ti sarebbe? che sono è la prossima stagione? si è un data miner Ash, questo è un data miner su quanto riguarda le prove di Osiride, sono questi qua i dataminer, sono gli stessi che c'erano quanto riguarda la quest degli esagoni, quanto riguarda Saint ragazzi e with the restoration of the lighthouse complete prove dei nove e altro torneranno nella season of the world penso sia la prossima season raga season of the world no la cazzo mobile twitter season of the world è la prossima vero? non mi ricordo stagione dei degni stagione del degno cosa sarebbe? con la stagione dei degni con la stagione dei degni è molto affidabile è molto affidabile si non so qual è non so quando arriva la stagione del degno però canone portatile è un po' a cecchino assolutamente ora come ora almeno su pc a metà marzo season of the world ti sarebbe quella di metà marzo? praticamente praticamente ... 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 quindi season of the world sarebbe la prossima season che arriverà a marzo quindi questi dataminer hanno trovato questo leak praticamente che riguarda le prove dei nove si si hanno ragione però avevano ragione anche con il leak di saint che ricordi sage lo stessi dataminer che trovano che probabilmente hanno scoperto il dialogo di saint alla fine degli esagoni diciamo quando completi l'ultimo step degli esagoni quindi sono abbastanza affidabili che sembra abbastanza attendibile come cosa se un dataminer abbastanza attendibile secondo me e di che hancock figurati e nulla questo è il dataminer sulle prove sostanzialmente non so non so se affidabile però in teoria i dataminer sono teoricamente abbastanza affidabili non so se affidibili non so se affidibili non so se affidibili non so se affidibili non so se affidibili